Ciao amici di Italiato Games, buongiorno, continuiamo a vedere FIFA 22 con le 10 ore disponibili tramite EA Play, c'è il tutorial per capire un po' di cosa stiamo parlando se non conoscete EA Play, versione Xbox Serie X streamata su PC, ma nei prossimi giorni vi faccio vedere anche la versione PC, perché con Ultimate Pass di Xbox non solo avete 10 ore su Xbox One o Serie X a seconda di dove giocate, ma anche su PC e quindi vedremo anche la versione PC che non ha l'hypermotion technology, vediamo un po' le differenze dunque. Questa è ancora la versione Xbox Serie X ed S. Allora, giochiamo San Doria Napoli, anticipiamo la partita di oggi pomeriggio, ovviamente se state guardando questo video oggi, giovedì 23 settembre, altrimenti entrerà negli archivi del canale e la vedrete quando vorrete. Ho ricevuto un commento che mi ha scritto, ma perché non fai vedere il gioco con la pioggia? Eccomi, pronti, vediamo il gioco sotto la pioggia e speriamo di non far figure, ovviamente io tengo il Napoli nella partita e vediamo come va. Buona visione! Eccola qui la pioggia, bella scrosciante. Ovviamente il Ferraris non c'è, ho messo lo stadio più simile possibile, ricordo l'unico stadio italiano di FIFA 22 è San Siro, che abbiamo visto nella partita precedente, ecco che mi entra in signe. Cosimè, Mpuletano, Zinischi, Vospine, Insigne, Manolas, Di Lorenzo, Kalidu, Koulibaly, il comandante, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anghissà, Zinischi, Pulitano e Osimè. Pulitano è difficile da riconoscere onestamente. Pulitano è difficile da riconoscere onestamente. Pulitano è difficile da fare a 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 fare. Rivero, Gello, Colleghi, Berenzinski, Damskar Silva, Torska, Candreva. Caputo e poi Arella Grande ex Ed eccoci qua Ola Sam Andiamo a vedere il Napoli Anche il Sam proprio non c'entra nulla Onestamente Ospina Mario 2 Koulibaly Manolasso di Lorenzo Zielinski Zamba Fabbiano Insieme Ossimè E Polità E andiamo di match Bello Polità 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 Zielinski It should be And he clears it out of harm's way Well we all know what a tremendously talented player Lorenzo Insigne is What can we expect to see from him today Stuart? Well Derek we know his movement is very clever It's that speed of that movement that causes defenders so many problems He's got great pace He gets 1v1 against the goalkeepers And nobody can recover No ok for the jog Eh già Sì 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 Just do just do Zambu Vai Zambu What can they do from here? Eh dai di nuovo Eh Sta molto utilizzando il fuori gioco la santo Già due volte che Devo stare qui attento Grande Costas Uh bello Che palo ragazzi Che palo Che palo Va voler fuori gioco sempre Lorenzo vai Eh questo c'è Eh Well here it is again And the clearance just isn't good enough Giving up possession in a dangerous area Just poor defending all round The match has restarted 1-0 here Vittor Ozyman Vai piotra Uh Que parato Bueno E ci sta 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 Bravo Parti, parti, parti No, fuori gioco Per pochissimo, ma c'è L'ultimo Poi di ammonisco È vero, l'ho fatto È entrato male Lo spina c'è C'è il comandante Salva tutto il comandante Però basta È vero, l'ho fatto È vero, l'ho fatto Buono Vai che ci abbiamo tanti giocatori Vai Insigne, vai Ah, però Che bel passaggio È vero, l'ho fatto È vero, l'ho fatto Finisce il primo tempo Andiamo di cambio di telecamera Voglio provare la dinamica Postazione del gioco Ecco la dinamica Non l'ho vista ancora È vero, l'ho vista È vero, l'ho vista Nooo Pessimo Vai Costas C'è Politano C'è Politano Yeah, he's played Pretty well, to be fair He's looked confident And assured on the ball But he's gonna need A helping hand If they are to turn this around In the second half Ah Yeah Ah, yeah Robotka E facciamo entrare Robotka Me lo suggeriscono loro Vai Mario, vai Mario Bello per Aspettavo troppo decine anni in più Non va bene Non va bene Non va bene Could play it in And not hitting it With the accuracy He was hoping for Well, he took a chance there And he probably regrets it now That was the wrong decision Zielinski They're certainly allowing their opponents To come on to them And now Zielinski And they know they need to stop him Is this the moment? Brilliantly blunt Oh, yeah Oh, yeah And the pressure To regain possession For the defenders So 20 minutes to go But they're not standing off Their opponents In the slightest Playing with purpose Politeano a Lozano, sì, confermo. Fuori gioco Politeano, fino all'ultimo ragazzi, fino all'ultimo. Questo è fischio, non li capisco. Questo come ha tirato la maglia, al povero Mario Lui. Vai Lorenzo, vai! Solti, straight at the goalkeeper, then. And taking it away. Mikael Damsgård. Andrian Silva, has it, showing a willingness to attack, as they must, given the circumstances, time running out, and thwarting his opponent in the nick of time. And an effective clearance. Making progress. And teammates to play it to. Can't sit back. And close down straight away. Andrian Silva, excellent defending. Andrian Silva. Fuori, fuori, fuori. Siamo a entrare Elmas, il sei stanco. It's probably the game over now. Well, taking into account all the stoppages. Two minutes to be added on. And possibilities inside the box. And that is offside. E finisce qui. Sofferta, ma ce l'abbiamo fatta. Ovviamente, io mi auguro che oggi pomeriggio finisca così. I tifosi Sampdoriani, ovviamente no. Vi ringrazio per l'attenzione. Prossimo video, vediamo volta. Volta football, d'accordo? Come è possibile, perché alle 15 invece parliamo di un altro gioco di calcio. È oggi sempre, giovedì 23. A prestissimo. Arrivano due video sull'altro, due presentazioni sull'altro gioco di calcio. È dalle 15 e alle 16. Ciao. Ciao.